Benvenuti, benvenuti cari amici, savo Bit in questo nuovo video. Naturalmente come sempre ricordo di subito di like, di iscrivervi il canale, di iscrivervi anche nel Instagram. Bitcoin rompe il muro di 66.000 dollari, ma soprattutto meme e token letteralmente in ripresa e anche alcoin. Per cui all'interno di questo video andrò a vedere tutto ciò e per cui iniziamo subito. Per cui iniziamo subito a vedere quello che sta venendo sul giornaliero perché finalmente alcoin e memecoin nuovamente ok in positivo. E ce lo stiamo chiedendo tutti ragazzi, è in arrivo la prima grandissima alcoin season scusate di questo 2024, andrò a vedere il tutto. Dal mio punto di vista sì, ma ragazzi sarà appena una mini ok alcoin season barra meme season perché è il bello, deve ancora arrivare. Per cui andrò a vedere il tutto, vediamo 6 più 18%, ordi più 16.4% quindi in generale ottima risposta ok da parte del coin ma soprattutto continua ancora a performare. che è il mondo meme, vediamo mog più 12%, popcat più 16%, bonk più 14% quindi insomma mondo meme che direi ancora continua ok a far numeri. Soprattutto su settimanali, guardate qui vediamo popcat più 74,5%, wif più 54,7% quindi insomma sempre l'oro eh, sempre i meme a comandare. Ottimo, ci piace tutto questo, eh, soprattutto anche perché volevo ricordarvi questo grafico che da parte del coinmarketcap che ci illustra come i meme stiano sempre più prendendo potere. Guardate qui, 22.49% nei ricerche a giugno del 24, vi ricordo come a gennaio stavamo insomma alla metà circa il 10%. Quindi questo ci fa capire come la potenza di meme sta sempre più prendendo valore ok all'interno insomma di questo mondo che è il mondo cripto. Eh, io già da tanto tempo che vado a parlare di meme, già nel 2020 fui praticamente il primo, no praticamente, fu il primo in Italia a parlare di meme token come Shiba, Doge e dopodiché il resto fu storia. Ora, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Pepe, ha fatto numeri, abbiamo visto Brett, ha fatto numeri di cui avevamo parlato e ora ne abbiamo già delle altre, ok, anche all'interno del gruppo Cowboy. Quindi ti ricordo, se voi scrivete dentro il gruppo Cowboy, prenotate la trucola gratuita perché c'è una selezione all'entrata. E volevo anche mostrarvi quello che sta avvenendo su Bitcoin perché ovviamente i meme token che dipendono sempre da quello che sta avvenendo su Bitcoin. In questo momento prezzo di 66.540 dollari. Vediamo chiaramente RSI settimanale che ha fatto il 45, ok, del RSI, proprio bottom, presa e ripartenza. Quindi insomma, secondo me è sì in questa fase, ok? Ancora in una fase di lateralità, lateralità che va dai 55.000 ai 70.000 dollari. E quello che mi aspetto io è, lo vedete qui, ok, come chiaramente secondo me andremo a prendere i 70 per poi di dippare e forse a settembre andremo a rompere questo il tamai. Questo è quello che mi aspetto ragazzi. E volevo mostrarvi anche quello che avvenne già in passato, ok, perché se noi andiamo a prendere il 2020, ok, ovviamente non è detto che questo si ripeta. Però vi ricordo maggio 2020 ci fu l'Halving, eccolo qua, l'Halving di Bitcoin nel quale praticamente poi a partire da ottobre 20, quindi in 154 giorni si fece Sky Rockets. Ora, l'Halving è avvenuto ad aprile, quindi facessimo la stessa cosa, ve la mostro subito, io che congiuntivo non sono bravo, ma non è un problema, l'importante è essere bravi con i numeri. 150 giorni sarebbe circa settembre, quindi a me non stupirebbe, ok, che a settembre prendiamo e partiamo, però mentre una mini high season me l'aspetto, ok, della serie. Dopodiché, ok, abbiamo visto questo, quindi abbiamo visto Bitcoin, ma spettolateralizzazione, quindi magari 70.000, poi si potrebbe anche pensare a una presa di profitti, considerate voi, ma andiamo a vedere quello che è il settore MMS. Il settore MMS che in questo momento capitalizza quasi 55 miliardi, quindi si è ancora relativamente piccoli, ci stiamo riprendendo, Dogecoin più 6.6% sul giornaliero, Shiba Inu più 3.7%, Pepe più 5.6%, quindi insomma c'è stata una bella risposta, soprattutto anche una bella risposta a parte dei meme su Solana, vedo Bonk 14%, Doge Fat più 2.8%, ma addirittura su settimanali 55%, quindi insomma attenzione anche ai meme di Solana, ok, in generale, e volevo proprio andare a vedere con voi Doge, perché attenzione, Doge ha fatto questo double bottom in zona 9 centesimi, e secondo me è una bella opportunità, è questa, è una bella opportunità su Doge, in questo momento siamo a 12 centesimi, però sapete come io più volte ho dichiarato, come dai miei punti di vista, Dogecoin è il Bitcoin, ok, dei meme, e addirittura dal precedente bull market, come vedete qui, scaricò circa un 93%, qua erano chiare, ok, occasioni buy, con più supporti testati, e ora secondo me siamo nella stessa situazione, cioè un vecchio massimo relativo di quello che fu il 2023 è diventato supporto, quindi insomma attenzione a Dogecoin, e soprattutto anche contro Bitcoin, siamo ai minimi, guardate come più volte qui è stato testato il supporto in zona 169, abbiamo questa trend line discendente in un lungo periodo che dura tre anni, quindi scusate, secondo me Dogecoin andrà a rompere, quando andrà a rompere sarà lì che inizierà la meme season. Dopodiché andiamo a vedere Pepe, Pepe che anche lui tranquillo, che tra virgolette, prezzo è 1.011, comunque sta tenendo i 5 miliardi di market cap, per dare un'idea, al momento siamo circa un quarto, ok, di Doge e la metà di Pepe e di Shiba, quindi io non escludo a questo punto anche il possibile flipping, ok, in futuro di Pepe nei confronti di Shiba, assolutamente non li escludo, e voglio mostrarvi quello che sta avvenendo per l'appunto a livello di chart, Sky Rockets pazzesco sul settimanale, avete qui che pump, il tour è in zona 1.300, bellissimo Double Bottom qui in zona 771, quindi insomma anche il buon Pepe secondo me andrà nuovamente a fare rally, quindi stiamo attenti, monitoriamo, però insomma sembra esserci benzina sul fuoco. Dopodiché andiamo a vedere Pepe, perché magari non è ancora il momento, capitalizza ancora poco, 152 milioni, però insomma Pepe sta scherocchettando, noi l'interno del gruppo cap li abbiamo preso benissimo, siamo in gain forte, ok, fortissimo, e Pepe insomma se andiamo a vedere anche i volumi, sono volumi pazzeschi, ok, per la sua cap, 180 milioni di volumi, come una market cap di 149 milioni, al momento in circolazione non troviamo nessuna coin con questa forza, più 232% negli ultimi 30 giorni, quindi insomma attenzione a Pepe, stanno costruendo qualcosa di veramente importante, vi ricordo, abbiate sempre la strategia, perché questa coin ovviamente è ipervolatile, vi può anche dumpare, dopo se vi dumpa insomma siete voi a piangere, perché magari siete entrati male, io ricordo sempre, all'interno del mondo cripto bisogna individuare, ok, le coin che faranno numeri, ma soprattutto i tempi, ok, di entrata, tempi di entrata che vi cambia tutto, anche i rendimenti futuri sul portafoglio, quindi io lo dico sempre, se non conosci i tempi di entrata, ti ricordo, gruppo cowboy, prenota quella gratuita se non è entrato dentro, perché insomma i tempi sono fondamentali, come anche nello sport, no? sei sotto porta, sbagli il tempo, sbagli il gol, oppure prendi il gol, qua è uguale. Pei Pei, c'è stato questo video, ok, da parte di Durigno, che io non sapevo nemmeno chi fosse, insomma un importante fighter, che diventa anche lui ambasciatore di Pei Pei, ok, quindi incredibile sta cosa, Durigno, ok, già il nome Durigno è insomma interessante, ok, questo nome, brasiliano, suppongo, e insomma è diventato l'ambasciatore di Pei Pei, vedete che porterà anche Pei Pei nel, insomma, con i guantoni, ok, con i guantoni, quindi interessante all'ottagon. Ti ricordo, prima di andare a vedere altri meme, che exchange utilizzo io, BitGet, quindi se ancora lo utilizzi ti lascio sotto la linea in descrizione, così vai a sostenere anche il canale, e questa è un'importante promo sui future, ok, se volete, che c'è in questo momento, e dopodiché ti ricordo anche di studiare sempre, quindi se vai su samubit.com, trovi tutti i corsi che io ho fatto, magari ti vai a scegliere anche quelli che ti piacciono, ti scrivi al sito, che è letteralmente gratuito, e in questo modo chiederai tutti i corsi che vuoi, quindi se vuoi io lo faccio adesso, un attimino, ovviamente io sono già iscritto, mi logo solamente un attimo, e andiamo a vedere un attimo i corsi, tra l'altro c'è anche i corsi sui meme, secondo me è molto interessante, la mia mania 3.0, insomma, protocollo del crypto cowboy, qui praticamente impari, ok, a gestire anche un portafoglio, quindi insomma, se vuoi sapere di più, puoi chiedere anche maggiori informazioni al mio team, e tra l'altro abbiamo integrato anche gli assistenti virtuali, quindi se andate qui, cliccate, vi comparirà questa... Ti do il benvenuto nel mondo di samubit, risponderò ad ogni tua domanda a tema crypto. Cioè direi una cosa... Cosa vorresti sapere? Veramente pazzesco, qui puoi insomma domandare alla nostra amica Alma tutto quello che vuoi sul mondo crypto. Per cui andiamo a vedere Brett, perché guardate qui che bellissima struttura, se andate a creare bellissimo double bottom in zona di 10 centesimi, ma soprattutto vi ricordo questo primo double bottom che avvenne in seguito al FUD, ok, su Brett, penso ce lo ricordiamo tutti, era... Io me lo ricordo, eh, era un sabato pomeriggio, è arrivato il FUD su Brett, noi entriamo in gruppo cowboy, siamo andati insomma a carichi, ok, e successivamente resto, poi è stato storia, e i tour siamo arrivati a 0.20, eravamo in media 10 barra 8x, dipendeva da quando entravate, e comunque è buona, ok, l'azione in questa fase di mercato, ma soprattutto, secondo me, Brett ha buone possibilità anche di andare a performare Pepe all'interno di Pepeverse, quindi insomma, attenzione a Brett, primo meme su rete base, più capitalizzato, dove che abbiamo anche Andy, Andy anche qui aveva un bellissimo supporto in zona 4, che poi era il fatto che è a 6.6, guardate qui, bellissimo, andavo il botto, insomma, Andy, o in questo momento, ha un prezzo di 10.171, ma secondo me anche questo è un altro meme, che insomma, ha buone possibilità di far bene. Dopodiché, stavo osservando Book of Meme, ragazzi, perché ieri c'è stato anche un video da parte, sempre del solito da Vinci, un piccolo reel, nel quale, e noi già lo guardavamo da un po' di tempo, nel quale lui diceva che Book of Meme è sottovalutato. Ora, se andiamo a vedere la market cap di 642 milioni, volume di scambio per 198, vi ricordo comunque anche Book of Meme sta su Binance, quindi insomma un exchange molto importante, non è che stia dando questi grossi rendimenti, anzi, però vorrei ricordarvi anche come nella sua prima parte iniziale, lo stesso Pepe fece delle performance molto similiari, ok? E soprattutto da listing su Binance, non è passato tantissimo tempo, ora per ora è passato 105 giorni, quindi io direi diamo spazio a Bome, diamo il tempo a Bome, ma secondo me, insomma, ha buona possibilità di fare molto, ma molto bene anche quest'altro Meme Token. Chi invece sta dimostrando nuovamente forza è Doggy Fat, vediamo che aveva fatto anche qui un double bottom in zona 1.52, con un top addirittura sopra i 4 dollari, quindi veramente qui era un, non dico by the dip chiamato, però insomma la sua struttura ce la stava dando, e secondo me WIF è ancora, anche in questo caso, altamente sottovalutato. Quali sarei il prezzo a pagare? Probabilmente altissima volatilità, sia su WIF che su Bome, che su Bret, insomma tutte le coin, però se avete una strategia, soprattutto se avete gli obiettivi, che io vi invito anche a chiarire, se volete, all'interno di una call gratuita che potete prenotare, però attenzione, vi ricordo, call finalizzata, a volentare dentro il gruppo cowboy, ok? Non perdiamo tempo ragazzi, perché ragazzi qui in questo mercato il tempo è denaro, se volete attenzioni, trovate in un altro modo, qui si viene esclusivamente in call, per voler entrare dentro il gruppo cowboy, belli ed aggueriti. E per me se vi è piaciuto questo video, ti ricordo di subito il botone di like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo presto. Hasta la vista, hombre.